La fuga degli ebrei dall'Egitto fu l'inizio dell'epopea di un popolo. Un uomo, Mosè, fu prescelto per guidare gli ebrei fuori dall'Egitto verso la terra promessa. Per anni gli archeologi hanno cercato le testimonianze di questa fuga. Cosa provocò le dieci piaghe? Il ritirarsi delle acque del Mar Rosso lasciò delle tracce? Dove si trova esattamente la montagna del Signore? E chi era Mosè? Archeologi e studiosi sono da sempre alla ricerca di prove sulla sua vita, sui luoghi, gli eventi e i protagonisti dei primi capitoli di una storia millenaria. Con lightheartedza il transforo dellaymena. Per anni gli evpis mi conviene in *** Persona che solo della ricerca di uno